in questo video andremo ad applicare una pellicola sull'iphone 12 è una skin dd brand che a mio parere è la migliore azienda per qualità in questo campo questa pellicola in particolare è l'edizione icon una collaborazione tra l'azienda e lo youtuber americano marques brownlee il prodotto che arriverà in questa confezione molto particolare sull'easy pillo possiamo notare due piccole chicche la scritta it's not a product it's a culture cioè non è un prodotto è una cultura inoltre la bandiera del canada in quanto l'azienda è canadese in confezione abbiamo il panno in microfibra in questo caso un'edizione speciale che vedremo meglio dopo poi abbiamo le pellicole un cartoncino con il logo di marques e questo contenitore di plastica con tutte le icone e la scritta di brand e anche bhd abbiamo due diverse pellicole una è la standard fit che ricopre solamente il retro del telefono e la fotocamera mentre l'altra è la precision fit che riveste interamente il telefono io andrò ad applicare la standard fit iniziamo pulendo accuratamente il vetro posteriore cercando di rimuovere il più possibile sporco e polvere solleviamo la pellicola adesiva dalla carta e iniziamo ad applicarla partendo dalla fotocamera se non dovesse essere allineata correttamente al primo tentativo possiamo semplicemente rimuoverla con delicatezza e riprovare una volta soddisfatti dell'applicazione possiamo far aderire per bene tutta la pellicola ora muniti di asciugacapelli andiamo a riscaldare i bordi della pellicola per far sì che aderiscano per bene in particolare insistiamo sui quattro spigoli del telefono e sulla zona delle fotocamere per modellare la pellicola attorno ad esse una volta finito il risultato dovrebbe essere questo infine andiamo ad applicare la pellicola sulle fotocamere dovete cercare di essere precisi e riprovare nel caso non riusciste al primo colpo aiutatevi con un panno in microfibra ad incollare tutti i punti a fine installazione la pellicola si presenta così vediamo adesso il panno in microfibra che c'era in confezione per ogni acquisto di una pellicola edizione icon vi verrà fornito un panno con un'icona diversa stampata sopra nel mio caso abbiamo questa che non vorrei sbagliarmi ma mi sembra essere l'icona dell'otturatore presente nelle fotocamere la pellicola in sé è bellissima avevo solamente paura che potesse stonare con il blu dell'iphone ma devo dire che ci sta molto bene per qualsiasi dubbio informazione potete scrivermi nei commenti in descrizione trovate il link al sito per acquistare questa o altre skin adesso vi lascio alcune immagini più ravvicinate grazie per la visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti